che naturalmente esaminerà ancora questo voto della Sardegna e comincerà a pensare al voto dell'Abruzzo che alcuni vedono come la rivincita e al quale mancano appena 11 giorni. Era stato sotto traccia finora proprio perché la Sardegna ci aveva preso completamente ma adesso assume una valenza politica tutta diversa alla luce dell'elezione di Alessandra Todde. Buongiorno a Marianne Aprile, buongiorno a Lorenzo Castellani dell'Università Lewis con il suo ultimo libro Eminenze grigie, uomini all'ombra del potere e qualche eminenza grigia forse ha fallito negli ultimi giorni, qualche consiglio almeno così dicono quelli bravi che sanno. Buongiorno a Goffredo Buccini, editorialista del Corriere della Sera, ben tornato. Buongiorno a Lorenzo Pregliasco, Utrend, che ci aiuterà a capire questi numeri che hanno fatto tanto discutere. Buongiorno a Lorenzo. E buongiorno a Antonio Rapisarda, il direttore del Secolo d'Italia. Ciao Antonio. Buongiorno a tutti. Allora Marianna, l'aria sta cambiando o no? Perché questa è cambiata davvero o è soltanto, come dire, la rondina che non fa primavera, il titolo credo dell'editoriale di oggi del manifesto. si fa bozzi oggi e che se lo chiede. È presto per dirlo. C'è da dire che se dobbiamo stare ai precedenti, la Sardegna ha sempre costituito un po' un luogo in cui hanno fatto capolino e stanze all'inizio minoritarie che poi hanno trovato il tempo per crescere e per fare primavera. Ora, io senza voler sminuire il valore della vittoria di Todde e dell'esperimento Movimento 5 Stelle, PD, Allianza Sinistra e Verdi, però attribuisco il risultato più agli errori di Meloni e del centrodestra che al passo pure importante che ha fatto il centrosinistra in Sardegna. E questo ci farebbe dire che l'aria non è cambiata perché è sempre Meloni che nel bene e nel male dà le carte, a volte a proprio favore, a volte contro se stessa. Ma al di là delle battute, è sicuramente una benzina diversa anche solo nel dibattito. Noi abbiamo passato gli ultimi, dall'estate, dalla campagna elettorale per le elezioni di settembre del 22, abbiamo passato mesi, anzi un anno e mezzo, a certificare la supremazia comunicativa, politica, sugli avversari, sugli alleati, eccetera, di Meloni. È la prima volta che registriamo che... E ci sono gli elettori, contano ancora qualcosa agli elettori? Sì, dopodiché però se stiamo a contarli gli elettori, il centrodestra in Sardegna ha raggiunto la maggioranza dei voti, insomma. È Tuzzo che non ha funzionato, quindi è l'emanazione meloniana in loco, il che, e qui forse è il messaggio che Meloni dovrebbe un po' capitalizzare in vista dell'Abruzzo, dell'Umbria e della Basilicata, non può ignorare l'identità dei territori in nome della tua. Per quanto la tua sia forte, per quanto la tua sia vincente, l'identità dei territori ha, soprattutto in territori come la Sardegna, ha un valore che non è calcolabile nei sondaggi per gli ascomi, mi perdonerà, ma insomma non è pesabile nei sondaggi. L'orgoglio sardo credo che abbia pesato tantissimo in quel fluttuare di 6.000 voti di qua e di là tra liste, preferenze e candidati. Allora, chiamato in causa subito Lorenzo Pregliasco, qualche numero per capire un po' di più. Molti li abbiamo visti, ma tu sicuramente ce ne darai un'ulteriore lettura. Sì, perché effettivamente, come diceva Maria D'Aprile, questo è un risultato nel quale pesano tanti fattori. Sono certamente fattori locali rispetto proprio al candidato. Vediamo, abbiamo raccolto i dati principali, cartello 1, in particolare un aspetto che credo sia decisivo per capire quello che è accaduto in Sardegna, cioè la distanza tra il voto ai candidati e il voto alle liste. Qui vediamo come appunto nel voto ai candidati ci sia stato questo testa a testa fino a notte che ha visto poi prevalere la candidata del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, più 0-4. Però guardate le liste. Sommando le liste, il centro-destra prevale di oltre sei punti. Sono 40 mila voti circa che ballano. E questo ci dice che non ha funzionato qualcosa nella candidatura di Truzzo e direi anche nei rapporti interni forse al centro-destra e tra Roma e la Sardegna. Questo lo possiamo dire alla luce del fatto che Truzzo addirittura ha preso circa 6 mila voti in meno delle sue liste, che è una cosa che non capita spesso. Significa che c'è stato matematicamente, possiamo dire, un voto disgiunto ai suoi danni. Cioè elettori che hanno votato, per esempio, Lega o Partito Sardo d'Azione e che poi hanno votato un altro candidato alla presidenza. L'entità del voto disgiunto di solito è trascurabile e in questo caso non lo è stata. In questo caso non lo è stata, è stata anzi determinante. Vi do un dato che ci aiuta a capire quanto fosse poi sul filo la situazione. Se Truzzo avesse tenuto i voti delle sue liste senza aggiungerne neanche uno, cosa che succede quasi sempre, dobbiamo dire, oggi Truzzo sarebbe il presidente della regione Sardegna e il dibattito politico che stiamo facendo assumerebbe sicuramente un altro colore. Quindi c'è stato un elemento forte della sua candidatura e aggiungo, anche perché di nuovo i territori pesano, qui vediamo il dato delle liste, che poi è indicativo fino a un certo punto perché ci sono molte liste locali, il voto di sconfitta del candidato di Fratelli Italia e del centro-est a Truzzo deriva anche dalla grande impopolarità del presidente uscente Solinas. Quando gli elettori votano in un contesto come quello delle elezioni Sarde, votano anche sulla base dell'esperienza dei cinque anni precedenti e l'impopolarità di Solinas è stato uno degli elementi chiave della sconfitta del centro-est. Antonio Rapisarda, ma se è vero che Solinas era andato malissimo e che Truzzo era il penultimo, il terz'ultimo sindaco più apprezzato in Italia, lo scopriamo il centro-dest a sembra scoprire tutto questo solo dopo il voto, che sarebbe un clamoroso autogol o no? Che la ricandidatura di Christian Solinas fosse debole lo si era compreso in tempi non sospetti, tant'è che ci fu una riunione della maggioranza dei partiti di centro-destra era declinato il fatto che ci doveva essere in qualche modo una nuova proposta. Una nuova proposta che poi è caduta sul sindaco di Cagliari, Truzzo, che aveva vinto però a Cagliari un'importante partita. Un voto. Quella appunto delle amministrative. Cagliari è sempre stata una città orientata a sinistra. Quindi, Truzzo aveva vinto la sua campagna elettorale in Calabria e sembrava che potesse essere lui il candidato opportuno. Non è andata chiaramente così, ma proprio perché ha perso nella sua città adesso le regionali. Quindi il ragionamento va fatto rispetto a un, come diceva giustamente Pregliasco, a un'amministrazione precedente che era stata deficitare, se no non si sarebbe richiesto un cambio di passo. E venendo sempre al ragionamento che ha fatto Pregliasco, anche nelle scorse regionali c'era stato uno spread fra i voti a Solinas e i voti di lista. Quindi evidentemente per ciò che riguarda la Sardegna nel caso specifico c'era un problema sia in precedenza che adesso. Ulteriore elemento che aggiungo al nostro dibattito è la sindrome Sardegna. Cioè dal 99 ad oggi non è mai stata riconfermata una giunta uscente. Questo è un ragionamento. Antonio, ti faccio notare una cosa. Non è stato mai confermato un governo in Italia. Le maggioranze che vincono le elezioni politiche perdono quelle dopo. La Sardegna rispecchia quell'inquietudine che registriamo anche sul quadro nazionale. Non accade così in altri territori. Vediamo l'Emilia. Altri territori sono molto più stabili. O la Lombardia o per non dire il Veneto. Goffredo Buccini oggi Marco Damilano sul Domani scrive una cosa interessante rispetto al voto di Todde. Dice qual è la sorpresa? Si ripete la tradizione migliore del centrosinistra da Prodi ai grandi sindaci degli anni 90 che moltiplicano i consensi sopra la somma dei partiti dell'alleanza. Cioè era vi ricorderete quando arrivò Berlusconi poi ci fu l'imbarcata dei sindaci di centrosinistra e furono Rutelli Castellani a Torino 93 esatto e proprio perché erano molto forti dice quale sorpresa? In fondo se scegli bene il candidato deve fare questo il candidato? Si deve fare questo il candidato e lo ha fatto perché abbiamo l'abbiamo detto che la resa della Todde è stata è stata molto alta credo che aprevo 40.000 voti in più della sua diciamo ma tu il vento lo vedi o no? Sarei molto cauto sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto nel senso che ci sono elementi locali molto 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 forti e ci sono anche contraddizioni molto molto forti dentro al campo che adesso si chiama campo giusto avete visto che non si chiama più campo largo questo è un paese meraviglioso mitopoietico che inventa continuamente formule di cui il cittadino non capisce tu capisci dal campo largo al campo però guarda bene che sfumatura profonda c'è nel campo giusto che Conte rivendica dice no ragazzi è il campo giusto è quello dove io do le carte quindi stiamo parlando di una cosa che è molto lontana dall'essere una coalizione plausibile e dice anche che oggi si sente un populista mite un populista mite eccetera quindi no è molto lontana la verità è che da tutte e due le parti le contraddizioni sono fortissime se si vuole leggere il voto sardo in chiave politico nazionale secondo me la chiave è il salvinismo è la grande crisi del salvinismo che la Meloni dovrà come dire confrontare da qui all'europea e dopo l'europea Salvini è un signore che è in via d'uscita nel suo partito io mi invito a leggere le cose che dicono i leghisti del nord in modo sempre più esplicito Castelli oggi gli spara Castelli è un signore che si è messo un po' a lato diciamo del dibattito però è chiaro che esprime buona parte della pancia del nord e gli dice delle cose terribili terribili senza più nessun un tempo la Lega da partito leninista quale era tendeva a tenere sotto sotto insomma alla pentola le tensioni Attilio Fontana il governatore della Lombardia esplodendo tutte insomma nuovo leader non è il momento ma serve un partito più concreto poi la dice in termini ancora più felpati però quindi secondo me le contraddizioni stanno saltando fuori sia da una parte che dall'altra in termini nazionali noi dobbiamo renderci conto che senza fare coalizione con questa legge elettorale non vinci le elezioni ma facendo coalizione tieni nella pancia contraddizioni pensate la destra che governa oggi ha una premier atlantista e un vice premier che fa fatica a dire che Putin è un assassino ma se vincesse il presunto campo giusto il centro-sinistra quello che è tu avresti contraddizioni altrettanto forti sulla politica estera totalmente laceranti la verità è che bisognerebbe sedersi a un tavolo giusto e rimettere mano alle regole di questo paese tutti insieme però sembra proprio che non ci riusciamo Lorenzo Castellani allora ieri la nota comune dei leader del centro-destra ha cercato di mettere un po' di toppe a questo risultato con una serie di affermazioni eccola qui rifletteremo sugli errori vittoria di misura che poi è vittoria di misura rispetto al campo largo perché in realtà sono minoranza se sommiamo anche i voti di Soru che in qualche maniera possiamo considerare organico a un'alleanza quella dell'Abruzzo tanto per dire o poi dicono rammarico per l'esito del voto ma la coalizione sfiora il 50% a Roma si dice si consolano con l'aglietto però è così e quindi qualche eminenza grigia ha sbagliato qualche cosa per rimanere al tuo libro io penso che diciamo lì ci sia stata una candidatura quella di Truzzo obiettivamente è nata male perché è una candidatura nata all'ultimo minuto e lui si è assunto tutte le responsabilità fa il parafulmine esatto fa il parafulmine nel senso che i litigi tra i leader sulla questione sarda da Roma cosa che è una regione peraltro molto autonomista come la Sardegna non fa particolare piacere diciamo così poi la sostituzione appunto all'ultimo minuto dell'uscente probabilmente un'amministrazione della regione non particolarmente brillante non è che diciamo Truzzo partisse con chissà quale grande abbrivio rispetto a come era nata la sua candidatura poi si è scoperto anche appunto che a Cagliari era molto impopolare e quindi tutto questo diciamo ha portato alla sconfitta quello che dicono sulla coalizione sostanzialmente è vero cioè il centro-destra di fatto è stabile cioè a livello nazionale hanno preso in Sardegna le liste hanno preso grossomodo una percentuale che se noi sommiamo i tre partiti di centro-destra ritroviamo quasi ovunque diciamo tra il 45 e il 48 a seconda dei casi detto questo però noi siamo anche ormai in un contesto diverso cioè le elezioni precedenti sono state vinte con diciamo delle regionali precedenti con una o due forze del centro-destra che erano l'opposizione quindi quando sei all'opposizione vincere anche sui territori è un po' più facile ora sono tutte e tre al governo perché sei di lotta sono le contraddizioni che diceva Buccini giustamente e in più c'è la crisi della Lega che ormai è sempre più forte e diciamo anche ricorreggere la rotta mi pare molto difficile primo perché Salvini ormai ha imboccato questa via diciamo dell'estrema destra anche nei suoi rapporti con l'Unione Europea e appunto sulle questioni internazionali secondo perché l'attuale programma della Lega al primo posto straordinario paradosso il ponte sullo stretto di Messina per cui immaginate a Varese quanto gli può interessare questa cosa quindi detto questo mi sembra cioè lì o si arriva a una sostituzione del leader dei prossimi mesi e proprio a un ripensamento totale ma questo significa una crisi profondissima significa riportare il partito dove Salvini l'ha preso cioè al 3-4% prima dell'Europa è un autogolo infatti anche prima addirittura immagini no non lo so prima dell'Europa no dopo però è quasi certo secondo me perché se soprattutto Forza Italia la superasse vuol dire è chiaro che si aprirà un braccio di ferro notevole Lorenzo Pregliasco ti chiedo di fare una previsione quanto ti aspetti che questo risultato sardo peserà sui sondaggi per esempio che noi vedremo lunedì da Mentana cioè quanto vale in un sondaggio politico nazionale un risultato come quello dell'altro giorno secondo me vale diciamo indirettamente nel senso che un risultato come questo che per carità ha una regione dinamiche locali abbiamo detto però un pochettino incide lo stiamo vedendo e lo dimostra credo anche il nostro dibattito di stamattina sta incidendo sui termini del discorso il sentimento come dicono quelli bravi sui media e queste cose sono cose che hanno un effetto quindi io credo che indirettamente potremmo vedere qualche piccolo scostamento magari non non lunedì ma le settimane le settimane dopo potremmo assistere a un piccolo scongelamento anche perché ricordiamoci una cosa lo diceva poco fa Lorenzo Castellani alla fine il centrodestra è sempre lì a livello nazionale e bene o male i rapporti di forza sono sempre quelli tant'è che diciamo dal punto di vista di chi osserva i fenomeni elettorali l'opinione pubblica è stato è stato interessante assistere a un'elezione davvero contesa da quanto tempo non avevamo un'elezione combattuta e da quanto tempo non vedevamo in un'elezione importante il centrosinistra giocarsela no? eravamo quasi quasi abituati diciamo a questo addormentamento generale dei rapporti di forza quindi non escludo che qualcosa si possa muovere e in questo avere l'Abruzzo per carità è una sola regione neanche una regione praticamente grande come sappiamo ma avere l'Abruzzo tra neanche due settimane può dare in termini di percezione no? l'effetto di un di un trend noi siamo poi molto abituati a vedere trend certe volte anche quando non ci sono però sono cose che in termini di percezione hanno la loro importanza ci fermiamo qualche istante Antonio Rapisarda allora ieri il comunicato congiunto per come dire capire far capire anche al proprio popolo che cosa era successo ma che faranno ora Meloni Salvini e Tagliani che fanno da un lato campagna elettorale per l'Abruzzo perché come si diceva prima è una prossima è una prossima elezione che ha una sua che ha una sua importanza perché potrebbe rientrare appunto nella nella logica nella logica del trend anche se in Abruzzo diciamocelo chiaramente la situazione è un po' diversa rispetto alla Sardegna di partire dalla legge elettorale che non premede il voto disgiunto che è stato uno degli elementi che ha condannato condannato Truzzo e poi si parla di una regione leggermente più stabile con un governo più forte una presenza diciamo anche politica del destracentro diciamo radicata in tempi non sospetti dall'altro punto di vista il governo continuerà a fare quello che dovrà fare dovrà accelerare lo scriviamo pure sul secolo d'Italia ieri sui temi sui temi sociali evidentemente soprattutto nel mezzogiorno nel centro-sud c'è una richiesta di presenza ulteriore da parte dello Stato perché è lì che c'è la contesa più forte col vero leader dell'opposizione in questo momento che è Giuseppe Conte quindi immagino che ci sarà un'attenzione ulteriore al centro-sud ricordiamo che nel giorno in cui De Luca sproloquiava e faceva la sua marcetta su Roma la premiera era a Gioia Tauro a firmare un patto importante di coesione con la regione Calabria quindi da un lato ci sarà un intervento ulteriore appunto sui temi che riguardano il disagio sociale le infrastrutture il ponte sullo stretto mi rivolgo al professor Castellani non è un'operazione suddista è un'operazione nazionale perché le aziende che lavorano per il ponte sono aziende del nord soprattutto quindi il ragionamento sul ponte non è diciamo una lagna meridionalista ma è una idea infrastrutturale ben definita e purtroppo non è stata fatta prima e lo dico da siciliano in ultima istanza ci sarà il ragionamento sulle europee è chiaro che non dovrà essere questo è un messaggio chiaro che arriva nelle interlocuzioni con Palazzo Chigi da parte dei leader non dovrà essere una contesa fra le parti ma dovrà essere un ingaggio delle parti sulla riforma dell'architettura europea e delle politiche i primi segnali incoraggianti sono arrivati dalle dichiarazioni di Ursula von der Leyen sul Green Deal e sono arrivate anche dalla revisione della politica agricola comunitaria io reputo segnali incoraggianti di un cambio diverso pure in Europa non di maggioranza ma di tematiche dove l'Italia dovrà essere chiaramente al centro e su questo il governo si cambia da essere protagonista per l'italiano Allora adesso approfondiamo sia il centrodestra che il centrosinistra come sono andati però da Lorenzo Pregliasco volevo sapere qualche cosa in più sull'Abruzzo oggi Alessandra Ghisleri sulla stampa ha un'opinione diversa rispetto a quella di Antonio Rapisarda dice che anche qui il centrodestra rischia poi è tutto è tutto relativo stiamo parlando è aperta la partita prego è aperta la partita nessuno ha già vinto dico solo che la situazione è un po' diversa rispetto a certo certo partono con un vantaggio cospicuo e Marsilio è un candidato è un candidato è stato un presidente di regione apprezzato anche se il suo concorrente credo d'Alessandro sbaglio d'Antonio d'Amico da qualcosa Lorenzo D'Amico è il candidato di tutto il centrosinistra da una parte all'altra Lorenzo Pregliasco l'Abruzzo sì diciamo che la grande differenza anche rispetto alle scorse elezioni in Abruzzo è l'ampiezza della coalizione di centrosinistra abbiamo tra l'altro un cartello che ci fa vedere come erano andate le elezioni in Abruzzo cinque anni fa c'era stata una vittoria netta del centrodestra anche un po' più netta rispetto a quella della Sardegna lo vediamo in Sardegna il centrodestra aveva vinto di 15 punti in Abruzzo aveva vinto di circa 17 punti e c'era il Movimento 5 Stelle che correva con un suo candidato tra l'altro in Abruzzo aveva ottenuto comunque voti abbastanza importanti il Movimento 5 Stelle perché aveva raggiunto il 20% questo come precedente sicuramente diciamo questo che l'Abruzzo anche per come si colloca temporalmente poco dopo la Sardegna verrà seguito con grande attenzione indubbiamente con un'attenzione diversa da quella che avrebbe avuto se si avesse votato così da solo e senza questo precedente così fresco della Sardegna non possiamo dare dati su eventuali sondaggi per ragioni di legge siamo oltre il tempo massimo essendo oltre il tempo massimo questo aggiunge diciamo così al mistero e al fascino della sfida però battute a parte come dire io credo che ci sia un elemento da sottolineare lo diceva poco fa Rapisarda effettivamente in Abruzzo c'è un meccanismo in meno rispetto alla Sardegna che è quello del voto disgiunto sappiamo che ogni regione ha la possibilità di intervenire sulla propria legge elettorale c'è anche però da dire che in Abruzzo il campo del centro-sinistra è molto ampio perché va dal 5 Stelle di fatto ai centristi anche se non hanno del tutto il proprio simbolo autonomo in alcuni casi sono all'interno di liste civiche ma come sappiamo la coalizione è molto ampia vedremo anche perché diciamo tra l'altro che c'è un altro aspetto forse che possiamo lanciare ovvero le regioni che poi voteranno dopo ci sarà la Basilicata ad aprile ma poi ci sarà il Piemonte a giugno insieme alle elezioni europee e io credo che il risultato della Sardegna un po' stia spingendo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sui vari territori incluso il Piemonte nei quali va molto difficile un'intesa a rivalutare questa cosa non penso che il Piemonte diventerà così contendibile necessariamente lo vedremo però ecco il tema è quello di un effetto domino se vogliamo anche sulle partite successive certo senti Marianna non è che a volte Giorgia Meloni che va fortissima perché i consensi sono suoi più che di fratelli d'Italia ogni tanto diciamo così sbaglia a scegliere i candidati faccio tre esempi Bernardo a Milano stracciato al primo turno da Sala a Roma Michetti che era in vantaggio su Gualtieri ha perso Maluccio il ballottaggio e ora arriva il caso Todd tutte situazioni in cui Giorgia Meloni si è imposta sugli alleati che ne dica lei perché poi ovviamente la difesa è sempre molto molto convinta almeno apparentemente da parte sua quando le si muove questa questa obiezione ma che ne dica lei c'è un dislivello evidente notevole tra la caratura politica anche la capacità diciamo di destreggiarsi tra responsabilità nuove e responsabilità vecchie da parte della Presidente del Consiglio e possiamo dirlo la Meloni di governo e la Meloni pre prevoto prima del 25 settembre da pagare diciamo per aver portato il partito dal 4 al 30% insomma è impensabile che possa non farlo anche giusto non c'è niente di malsano in questo è la politica però il problema è a chi li devi pagare questi debiti nel senso che dal punto di vista sia dell'impossibilità di allontanarsi da certi ambienti da cui magari persino lei in questo momento vorrebbe poter prendere chiaramente le distanze al parterre dentro cui puoi scegliere la tua classe dirigente ci sono dei limiti oggettivi quindi in questo caso non attribuirei tutta la colpa a Meloni ma diciamo gran parte della responsabilità è nella caratura del giardino da cui può cogliere i fiori cioè la riflessione sul gruppo dirigente sul gruppo dirigente io con tutto rispetto penso a Michetti nella sua breve campagna elettorale ha regalato diciamo Perle che ricorderemo credo per sempre e lo stesso Tuzzo diciamo non è che sia stato proprio diciamo un personaggio a livello dell'immagine che Meloni vuol dare di sé perché poi il tema è tutto la disparità la vedi proprio perché Meloni stessa si pone al di là delle faccette delle vocette del cabaret che ogni tanto fa lei lo sta a fatica costruendo con ogni tanto dei geyser della vecchia Meloni che vengono fuori che lei non controlla però lei ci sta provando a dare di sé un'immagine diversa tutti quelli che è intorno ma dal cognato ministro in giù si sforzano molto meno mettiamola così e hanno forse molto meno materiale per sforzarsi detto questo posso solo fare una una piccola coda a quanto si diceva prima sulle alleanze le prossime scadenze regionali io credo che ancora una volta centrosinistra e centrodestra abbiano i problemi complementari nel senso il centrodestra alla fine si ritrova a vincere quando ci riesce a livello locale in nome di un potere condiviso a livello nazionale il centrosinistra sembra condannato a poter vincere solo a livello locale su nomi terzi perché almeno stando a oggi poi la fantasia nella politica abbiamo visto spazio in Italia ci supera sempre ma a livello nazionale la corsa Schlein-Conte soprattutto per quanto riguarda Conte non arriverà mai a un nome terzo cioè Conte si capisce non c'è la todde nazionale non ci può essere perché basta leggere le due interviste di Schlein e Conte di oggi il Corriere della Sera e il Repubblica esatto Conte sul Corriere Schlein su Repubblica Conte è evidente che non farà mai quello sforzo di umiltà che Schlein sul nome di Todde ha fatto e che probabilmente è disposto a fare anche su altri nomi e cioè di perdita di cessione e di sovranità sulla coalizione in nome della riuscita di un pezzetto del progetto Conte questo si capisce tra le righe dell'intervista non è disposto a farlo per cui dal punto di vista delle elezioni locali qualche nome terzo si riuscirà a trovare ma sul progetto nazionale ho forti dubbi che si riesca nell'esperimento Goffredo Buccini oggi parla anche Romano Prodi su diversi quotidiani nel colloquio con la stampa dice una cosa abbastanza chiara nel centro-sinistra diciamo la Sardegna dimostra che uniti si può vincere la verità è che il vero problema è che tutti puntano a mantenere la propria posizione fino a quando qualche d'uno non sceglierà un sacrificio ed è memore di quello che accadde quando lui divenne candidato del centro-sinistra dell'ulivo eccetera tutta la storia che sappiamo questo non accadrà siamo ancora molto indietro rispetto a questo momento manca ancora la scintilla si sono d'accordo con quello che diceva sostanzialmente anche perché l'unico che nella storia in Italia ci è riuscito è stato appunto Prodi cioè il federatore era un signore che è stato preso proprio per tenere insieme le tante anime di quella che era pochi anni prima la gioiosa macchina da guerra perdente di Occhetto guardate la storia è proprio veramente gioiosa ti dico una cosa carina che risale al passato Silvio Sircana che era il portavoce dell'ulivo e io frequentavo all'epoca da giornalista alle riunioni non ha mai mostrato il tavolo dell'ulivo con tutti i leader di partito altrimenti ci sono talmente tanti che non li votavano la gente si piglia paura certo si si ma è vero la cosa che disse Sircana 25 anni fa si può raccontare ma del resto l'avete fatto rivedere adesso se sommi i voti dell'Abruzzo delle elezioni questo è un paese spaccato 50 e 50 sempre dovunque tu vada sostanze poi può essere 52 contro 48 51 contro 49 ma sostanzialmente il paese è spaccato tra un'area di destra centro e un'area di sinistra centro adesso dobbiamo anche parlare del centro peraltro perché il centro è un signor tema perché poi alla fine tu vinci se riesci a fare coalizione a fingere di essere una coalizione lo stavamo ce lo stavamo dicendo prima mentre eravamo con le telecamere diciamo sulla pubblicità cioè se tu vai sul programma non ti riesci a unire perché come farebbe il centro-destra a stare insieme sulla politica estera ma anche sull'economia visioni totalmente opposte visioni di liberismo contro visioni di centralismo statalista autonomia e follia e ugualmente dall'altra parte guarda la posizione sull'Ucraina dei 5 Stelle la posizione sulla guerra su Israele posizioni totalmente divergenti allora per andare a vincere devi fingere devi rimuovere fare il programma più generico perché si fanno le coalizioni ma si chiama bipolarismo bravi se fai il programma più generico possibile il più generico possibile in modo da inzeppare quante più persone puoi e raccontare agli italiani di avere una coalizione letta l'età ha perso perché è riuscito ad alienarsi tutti a poco tempo prima del voto un'operazione straordinaria di suicidio politico o anche di verità politica mettiamola così puoi anche raccontarla così allora io insisto ancora una volta il vero tema è rivedere i meccanismi elettorali noi abbiamo la peggior legge elettorale del mondo probabilmente sicuramente d'Europa una legge elettorale che tiene insieme sto parlando della legge nazionale adesso non sto parlando delle regionali che tiene insieme il peggio del proporzionale e il peggio del maggioritario legata alle liste bloccate delle segreterie quindi che stacca completamente i parlamentari dagli elettori aumentando la sfiducia degli elettori rafforzando il potere di ricatto delle segreterie e impedendo di fare programmi condivisi allora è possibile che noi non capiamo che se non ci svitiamo da questo anche l'onda della Meloni si esaurirà e io devo dire pur essendo tutt'altro che di destra purtroppo perché sono spaventato dall'idea che questo paese tra un anno vada di nuovo a elezioni non ce lo possiamo permettere e non si risolve col premierato si risolve cambiando le regole elettorali sedendosi a fare una legge elettorale maggioritaria uninominale a doppio turno che crei coalizioni forti e stabili se no non ne usciremo mai mai Lorenzo Castellani noi facciamo leggi elettorali peraltro ogni cinque anni quando la legge elettorale dovrebbe essere un po' la pietra d'angolo su cui si fonda poi il sistema questo è un'altra questione vi do una notizia e vengo alla domanda la notizia è che il generale Vannacce è stato ha avuto una sospensione disciplinare per carenza di senso di responsabilità e possibili effetti emulativi è un flash quindi vi leggo le poche le pochissime cose che ci sono il legale ha annunciato ricorso al Tar del Lazio non c'è la todda italiana ed è impossibile trovarla per il centro-sinistra perché ci sono due forze sostanzialmente equivalenti come grandezza che si confrontano e Conte è molto competitivo rispetto a Schlein che pure è più disponibile ad un'alleanza dove anche il PD potrebbe pagare qualcosa Sì sono d'accordo con questo nel senso che secondo me è molto presto per il centro-sinistra per trovare un federatore un Papa straniero per molti aspetti addirittura straniero forse no nel senso Papa straniero non iscritto in uno dei due esatto sì va bene nel senso sarebbe stato più facile se il PD avesse avuto una forza elettorale superiore in maniera netta rispetto al Movimento 5 Stelle affinché questo non avviene o se questo non avviene a me pare molto difficile che nel breve si possa sciogliere questo problema le europee saranno una sorta di primaria del centro-sinistra tra Conte e Schlein di fatto anche se non si candida chi ha più voti chi ha più filo eccetera peraltro è difficile anche perché noi non dimentichiamo Movimento 5 Stelle ora noi lo inquadriamo nella sinistra ma Conte flerta con Salvini si mette d'accordo sulle nomine col centro-destra quindi è un populista mite ecco mettiamo che oscilla a sua convenienza quindi anche lì diciamo di sinistra ma fino a un certo punto magari sui temi sociali sul resto meno posizioni in politica estera appunto sono diverse c'è la questione del centro io sono d'accordo se tu hai un paese così diciamo in cui hai forze potenzialmente vicine chi anche ha 3 o 4 5 punti percentuali in mano rischia di fare la differenza questa è la scommessa fino ad oggi persa da Renzi ma il suo gioco era quello e continua a essere quello quindi è un po' questo poi c'è la questione diciamo di come dire anche pensare diciamo la politica perché noi abbiamo pensato l'ultimo anno e mezzo come si diceva come una sorta di strapotere di Giorgia Meloni per problemi dell'opposizione cioè per divisioni debolezze dell'opposizione ma noi non dobbiamo dimenticare che se a settembre 2022 ci fosse stato il campo largo dell'Abruzzo Giorgia Meloni probabilmente quasi sicuramente non avrebbe avuto la maggioranza al Senato e quindi ci saremo trovati in un nuovo stallo motivo per cui forse bisognerebbe ripensare anche le leggi elettorali ma detto questo questo è per dire che non è che noi siamo di fronte a un centrodestra che ha il 55 il 60% dei consensi e c'è una sorta di plebiscito in fronte di Giorgia Meloni cioè Giorgia Meloni si è ritrovata nel 2022 a fare una buona campagna elettorale in una buona posizione con avversari che appunto sono andati incontro al suicidio politico ma il sostegno degli italiani come per tutti gli altri leader precedenti è sempre un sostegno molto freddo cioè della serie proviamo anche questa su alcune cose ci convince è meno screditata rispetto ai suoi avversari andiamo lì ma come dire dopo anni di governo se si arriverà magari alla fine della legislatura o giù di lì che questo consenso possa erodersi un po' e che un pezzo di italiani possa cercare altro può succedere allora detto questo a un certo punto quando si capiranno i rapporti di forza del centro-sinistra e si avvicineranno le elezioni secondo me una qualche soluzione si troverà Lorenzo Pregliasco è la fine della luna di miele diciamo così di Giorgia Meloni con l'elettorato questo risultato oppure può essere semplicemente un ciottolo lungo la strada diciamo che la luna di miele piena si era già esaurita da un po' in termini anche di consenso ad esempio sul governo i dati non erano più da tempo quelli dei primi mesi e questo è fisiologico se vogliamo però attenzione anche a non sopravvalutare l'effetto di questo voto perché ricordiamoci che poi se 2000 elettori a non lo so a San Gavino Monreale avessero votato in un altro modo noi oggi faremo un ragionamento diverso se non opposto tra l'altro una cosa che ricorderei è anche questa cioè che adesso giustamente consideriamo il Movimento 5 Stelle nel campo del centro-sinistra facciamo ragionamenti su questo assunto però il Movimento 5 Stelle lo diceva bene Lorenzo Castellani insomma è un soggetto atipico da molti punti di vista io ricordo quando pochi anni fa si provava a dire che il Movimento 5 Stelle aveva delle radici a sinistra aveva delle istanze riconducibili alla sinistra si veniva come dire bacchettati con una certa veemenza da sinistra all'epoca anzi elettori del Partito Democratico che adesso guardano il Movimento 5 Stelle come un alleato consideravano il Movimento 5 Stelle è un soggetto della destra è un soggetto totalmente incompatibile quindi le cose cambiano in fretta è vero che oggi il Movimento 5 Stelle chiaramente si è collocato anche per ragioni tattiche sulla zona diciamo così della sinistra populista lo si è visto molto nelle elezioni politiche quando Conte faceva un po' da contraltare a sinistra di Letta e quindi tutti questi elementi ci dicono anche della fragilità di molti dei nostri ragionamenti aggiungo un'ultima cosa su Alessandra Todde che oggi è giustamente considerata la vincitrice di queste elezioni e quindi anche un modello interessante io non so se poi sia stato un atto di generosità da parte del PD però sceglierla all'epoca nel senso che molti nel Partito Democratico lontano dalle telecamere alla domanda ma come vi sentite a sostenere una candidata a Presidente del Movimento 5 Stelle avrebbero risposto e hanno risposto beh ma tanto perde quindi attenzione al tipo di ragionamento che facciamo in funzione del risultato Goffredo oggi Bonaccini in un'intervista credo al tuo giornale eccola qui Bonaccini cambia un po' idea proprio sulla collaborazione con i 5 Stelle va fatta ma è proprio nel filo del ragionamento che facevo un attimo fa Lorenzo Preglias sì sì ma è nel filo del ragionamento che stiamo facendo e che riguarda diciamo tutta la parte riformista dello schieramento quindi riguarda certamente il PD con Bonaccini e con la corrente con l'area con quella roba lì di Bonaccini e riguarda appunto pensate al ribaltone insomma al forte ravvedimento operoso di azione di Calenda oggi dice beh insomma no certo parliamo di Calenda fra un po' con i 5 Stelle mai ma insomma quindi è come dire la presa d'atto che se tu vuoi evidentemente cercare di di contendere di contendere le regioni il palcoscenico anche alla Premier oggi devi fare coalizione devi si diceva un tempo ti dovi tappare il naso e questa volta ti metti vicino ai 5 Stelle e non votare di C insomma come diceva un tempo Montanelli quindi serve serve per loro ed è inevitabile detto tutto questo secondo noi questo non ti porta da nessuna parte perché non porta a nessuna chiarezza questo è un paese cioè noi dovremmo allora dovremmo forse smettere di considerare ogni elezione regionale come diciamo la presa della Bastiglia perché non sarà così non sarà così in termini cattiva abitudine italiana pessima abitudine italiana non sarà così in termini nazionali questo sarà un anno pensate con le tre riformi allora pensate come stanno messi a destra ogni partito di destra ha la sua riforma cioè Fratelli d'Italia ha il premierato fondamentalmente avversato dagli altri due in maniera surrettizia ma certamente non accompagnato dagli altri due perché la Lega ha l'autonomia differenziata vogliamo parlare di Sud e autonomia differenziata parlavamo prima di Sud rispetto ai 5 Stelle sarà la grande battaglia dei 5 Stelle al Sud la Lega ha l'autonomia differenziata e la Forza Italia ha la giustizia che in realtà non vuole riformare nessuno perché fanno una riformina della giustizia che non avrà nessun effetto sulla parte costituzionale che è viceversa la separazione dei colleghi e l'obbligatorietà dell'azione penale questo è il tema è il tema di una confusione tale in cui si muove questo paese peraltro commissariato sull'economia tutti fingono di avere una politica economica non è vero l'economia la può fare soltanto in un modo chiunque governi perché è commissariata già da molti anni quindi noi dovremo cominciare a parlare con un linguaggio di verità che nessuno ancora ha il coraggio di fare secondo me chiamerà banco chi parlerà veramente con le persone dicendo guardate sull'economia si può governare solo così perché non abbiamo spazio queste riforme non si possono fare perché non c'è modo di portarle a dama questo è un paese spaccato bisogna veramente cercarlo di superare io ho anche pensato forse una costituente cento saggi fa ridere ci possiamo sedere a un tavolo tutti quanti ripeto io non è che voglio fare il tavolo della pace a ogni costo ma rendersi conto che il paese così non va da nessuna parte è un gioco che secondo me qualunque parte politica responsabile dovrebbe fare proprio un flash Antonio Rapisarda tu credi che la partita della Sardegna riaprirà la vicenda del terzo mandato per i governatori può essere comunque un tema di certo sono convinto che se ne parlerà però di tutto ciò dopo l'Europa cioè l'Europa sarà un terminale sia per decidere chi sarà il leader del centro-sinistra e già questo ci fa capire quanto siano poco considerate da quelle parti quando invece sono un tema fondamentale anche nel centro-destra che ha molti più crediti e molti più argomenti a mio avviso in questa fase sull'Europa perché ha molti più interessi essendo veramente anche forze di governo anche quel tema insomma come andrà la Lega all'Europa sarà uno di quei temi che ci aiuterà a capire se poi il tema nel terzo mandato quanto sarà importante di vincere per la Lega in Veneto nel 2025 però su una cosa volevo rispondere a Goffetto che ha fatto l'agento interessantissimo sì è vero che il paese o perlomeno la nazione riesco a chiamarla così è un po' spaccato mettiamola così però sui temi da una parte una coalizione sta dimostrando però di avere un'ottica riformista perché non è vero che le tre riforme non si parlano non è vero che su quel tema tre partiti quattro partiti non si siano coalizzati e li stiano portando comunque avanti con tutte le difficoltà del caso e con tutti i meccanismi parlamentari e costituzionali di qui sopra il problema secondo me è dall'altra parte perché sì è vero che si possono turare al naso gli elettori e votare la Todde sarà una bravissima amministratrice una cosa è la Sardegna altra cosa sarà l'Abruzzo governare una nazione mettendo insieme super bonus reddito cittadinanza tema immigrazione ricordiamo che Conte su questo disse la Jolain voi siete il partito dell'establishment lo disse da Lampedusa diciamo teorizzando un po' il ritorno ai decreti sicurezza beh sui temi etici cioè attenzione da una parte il centrodestra con tutti i suoi limiti ha un idem sentire e ha creato di fatto un popolo perché comunque un popolo che addirittura premia i leader premia premia questa diciamo rispondenza da Berlusconi a Salvini a Meloni ma il popolo resta lo stesso dall'alto bisogna creare una coalizione ma non si capisce se questi popoli si parlano 5 stelle popolo 5 stelle e popolo del PD attenzione a questo solo una nota dice la DN Kronos che la sospensione di Vannacce è di 11 mesi ci fermiamo ecco ci sono le nuove precise Lorenzo Pregliasco abbiamo più volte evocato Calenda che dice di aver sbagliato mai più senza alleanze alle regionali Renzi dall'altra parte dice che in realtà questa situazione crea un grande spazio al centro chi ha ragione? Diciamo che le regionali strutturalmente non sono facili per le forze diciamo così autonome perché tendono comunque a premiare il bipolarismo gli elettori sono un po' indotti visto che tra l'altro c'è una vittoria al primo turno sono indotti a scegliere il candidato che ha più chance di vincere questo lo si è visto peraltro anche in parte in Sardegna perché la candidatura di Soru che pure insomma è un nome importante è stato presidente della regione si è sgonfiata alla prova dei fatti rispetto al 13-15% che si vedeva qualche settimana fa nei sondaggi alla fine ha quasi dimezzato questo dato e probabilmente una quota dei suoi elettori potenziali sono andati su Todd quindi è vero che le candidature autonome faticano però è anche vero che per le forze dell'ex terzo polo non è semplicissimo capire come come allearsi alle elezioni regionali perché comunque i contesti locali pesano faccio l'esempio del Piemonte perché voterà lo stesso giorno delle elezioni europee per esempio a giugno beh lì un possibile paradosso è che i dirigenti del terzo polo o quello che sarà azioni Italia Viva potrebbero trovarsi a dover dire lo stesso giorno alle europee votate una lista autonoma chiaramente europeista chiaramente di alternativa al governo Meloni e a livello regionale dovrebbero dire magari votate questa lista che sta con il candidato di Giorgia Meloni e del centrodestra per fare un esempio quindi come la si guarda è complicata indubbiamente per i centristi la partita delle regionali Lorenzo Castellani che te ne pare? Sì no sono d'accordo con quello che diceva Pregliasco diciamo che i centristi hanno anche sprecato delle occasioni dovuti a incompatibilità caratteriali di Renzi e Calenda e poi nel 2022 non avevano avuto un risultato straordinario ma avevano comunque preso il 7,5% o qualcosa del genere che non era una cosa da buttare via diciamo così però in un sistema come questo che appunto ha due blocchi tutto sommato organizzati pur con tutte le contraddizioni che dicevamo i centristi hanno due strade possibili davanti una costruire un centro autonomo tra i due poli che era l'idea nata in maniera confusionaria raffazzonata nel 2022 per una serie di eventi che a mio avviso era la strada più profittevole potenzialmente cioè dire io intanto arrivo in Parlamento rappresento un pezzo del paese e poi vado a seconda di la funzione diciamo di tutti i centri l'altra è questa operazione non si può fare e allora mi accoda un polo e ovviamente per i pregressi di Renzi Calenda e tutta la compagnia la sinistra è il diciamo l'interlocutore privilegiato anche perché la destra ha una forza Italia che nonostante la morte di Berlusconi sopravvive almeno per ora tranquillamente con risultati migliori del previsto e quindi è un po' difficile andare di là il problema è quello che dicevamo prima che di là ha il Movimento 5 Stelle e questi due elettorati sono totalmente antitetici per programma politico valori provenienza socioculturale quindi mettersi insieme è molto complicato questo può avvenire in qualche partita locale ma a livello nazionale mi fa molto difficile poi altra incognita è le elezioni europee hanno uno sbarramento e qui abbiamo c'è l'obbligo di superarlo certo calendo dall'altra lo supereranno tutte e due una sola nessuna delle due perché il rischio che non lo superi nessuna delle due è consistente allo stato attuale e c'è anche più Europa vedremo se si fonderà con azione oppure no scusa Marianna che ti pare del centro Renzi troveranno un accordo troveranno un'intesa adesso perché ci sono le europee poi ora ognuno mette i puntini sulle i però poi alla fine si sono trovati tutti con Soru non andando benissimo io quando quando leggo delle posizioni che prendono Renzi e Calenda mi chiedo sempre quanto siano posizioni diciamo convintamente in una direzione e quanto invece contro qualcosa o qualcuno a prescindere dalla direzione che prendi dopo qualche anno insomma il dubbio ti viene che è per carità un modo legittimo per posizionarsi e per costruire un proprio elettorato per fare un po' di base però appunto anche i fatti ci stanno raccontando che forse dal punto di vista del consolidamento della propria presenza non è proprio la strategia più adatta sul su quanto Calenda ha detto in questi giorni vedrebbe da dire benvenuto nel senso che il peccato originale in qualche modo dell'approccio di Calenda alle elezioni ha a che fare con Roma in qualche modo Calenda si è convinto all'inizio che quel 20% che prese a Roma le amministrative di Roma da outsider fosse replicabile non a quei livelli ma insomma che fosse in qualche modo replicabile su altre contese elettorali e adesso è tornato a capire che diciamo che il voto locale è diverso da quello nazionale e ha logiche diverse io sono curiosa di vedere come saranno diciamo gli eventi elettorali delle elezioni in Abruzzo perché ricordiamo credo tutti che cosa si sono detti Calenda e Conte che cosa si sono mandati a dire anche oggi Conte non è gentilissimo con Calenda se riesco a fare una previsione dubito che ci sarà una foto opportuniti cioè un palco che poi tra l'altro non ha mai portato storicamente molto bene insomma la foto di Vasto la famosa foto di Vasto insomma L'avevi sollevato più volte il problema del centro il centro è un paradosso fantastico perché io sono convinto che in questo paese è un luogo fantastico un paradosso fantastico perché sono convinto che in teoria in questo paese ci sia un grosso spazio politico per il centro la famosa bateria di Renzi beh secondo me c'è tra due coalizioni che in virtù delle leggi elettorali che abbiamo si sono estremizzate via via cioè sono di fatto sono un destra-centro e un grillismo sinistra tutt'altro che centro-sinistra e io penso che diciamo uno spazio per la parte razionale dell'elettorato non sia il 3% sia qualcosa di diverso infatti se voi mettete insieme le varie liste di cui giustamente parlava anche appunto Castellani e metti insieme e c'hai secondo me grosso modo un 8-10% un buon risultato è il risultato del Soro potenzialmente il problema che replica il risultato delle politiche 8-10 più o meno ora quindi soltanto che è evidente che come dire le piccole beghe dei gravi problemi di personalità ma anche di piccola navigazione di mancanza di visione ha portato a questa specie di frammentazione dell'atomo perché poi c'hai il 3 il 3 il 2 c'hai piccoli sembrano gruppettari di quando eravamo ragazzini noi cioè che si scindono via via in piccoli gruppi che litigano sempre di più in piccole assemblee tutto questo è assurdo demenziale anche perché loro fanno tutto riferimento invece a un modello vincente che è quello francese Macron ma ancora una volta torno vi sembra un'ossessione al sistema elettorale senza il sistema elettorale che hanno in Francia col ballottaggio voi avreste avuto l'Ale Pen all'Eliseo già anni prima prometto che parliamo di premierato fra pochissimo volevo sentire invece da Antonio Rapisarda però dovrei una risposta Antonio brevissima sul sentimento della destra Antonio il sentimento della destra tiene insieme liberali e forcaioli garantisti gente che anche sui diritti civili pensa pensa a Zaia con Salvini quanto sui diritti civili sono vicini il sentimento della destra si chiama in un solo modo lo dicevamo prima tra noi virgolette aperte anticomunismo cioè quelli a cui i comunisti e tutte le declinazioni successive dei 30 anni successive che gli sembra di sentire di cui sembra di sentire un eco gli stanno qua e questo è l'unico sentiment vero che tiene insieme il destra centro oggi sempre aggiungo una cosa Antonio che il problema del centro che pure il centrodestra ha avuto è stato risolto tanti anni fa proprio da Berlusconi perché essendo lui il catalizzatore di quel mondo ha risolto a priori il problema del centrodestra diciamo è sempre sull'anticomunismo cioè il tema di Berlusconi però lo ha risolto a priori e lui ha piantato questo sime Antonio che poi ci lascia perché aveva altri impegni diciamo sull'anticomunismo come dire non sempre è il tema centrale del governo italiano né della coalizione forse sull'anti qualcosa è un tema identitario perdente se vogliamo dall'altra parte sì Berlusconi ha risolto quel problema di dare cittadinanza a un certo tipo di centro è un ragionamento interessante che avete fatto proprio su questo embrione su questo magma centrista manca forse Italia forse Italia ha celebrato adesso lo suo primo congresso senza Berlusconi mi sembra una forza politica in vita e questo è forse una cosa stupefacente rispetto alle previsioni quando purtroppo il cavaliere è scomparso e questa forza Italia in vita può rappresentare invece un problema per i vari Calenda Renzi è tutta quella nebulosa che cerca casa e non la trova perché spostarsi a sinistra che sarebbe come giustamente sottolineava il professor Castellani assolutamente naturale perché provengono da lì Renzi è un uomo moderato di sinistra ma come segretario del PD come del resto Calenda è stato un iscritto un iscritto del PD però spostarsi in quella sinistra lì col PD che si è trasformato da partito maggioritario a partito radicale di massa beh la somma in questo caso non fa il totale cioè quel tipo di politica che sta attuando Eligeline con Conte oggi le chiamiamo appunto il ritorno del Conte 2 è criptonite per i moderati e questo non è un tema diciamo di anticomunismo o altro è un tema proprio sui concetti fondamentali cioè giustizia politiche sociali immigrazione queste non sono diciamo non è l'anacaprina sono tematiche fondamentali per appunto quell'Italia pensante quel centro di cui di cui si parla sempre e se quell'offerta politica per un suicidio più o meno assistito alle politiche dopo le politiche con la scissione fra Calenda e Renzi non trova una sua stabilizzazione e anche la sua forza di diventare un progetto macroniano italiano Forza Italia paradossalmente tornerà al centro del centro e quindi tornerà a essere una forza attrattiva devono decidersi non resta molto tempo perché una debacle all'europea di questa nebulosa centrista che guarda a sinistra sarebbe la fine per loro è una grande occasione forse per Forza Italia Allora grazie Antonio so che avevi altri impegni io vi do però l'aggiornamento che spiega che cosa è successo a Vannacci il generale è stato sospeso per 11 mesi dice Lanza lo si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi a ottobre dal Ministero della Difesa dopo la pubblicazione del famoso libro Il mondo al contrario ci fermiamo ciao Antonio 9 e 19 allora io voglio mettere insieme adesso due commenti che sono sui giornali di oggi uno è l'analisi di Giovanni Orsina sulla stampa che dice che i risultati della Sardegna fanno bene sia all'opposizione che alla maggioranza perché ricreano un clima di competizione che sembrava sparito e aggiunge al centro-sinistra attenzione Todde è una scelta diretta del popolo e quindi c'è un richiamo rispetto al premierato e dall'altra parte c'è il professor Dalimonte oggi sul Sole 24 Ore secondo cui il risultato della Sardegna è la prova di un ritorno del bipolarismo Lorenzo Pregliasco che ti pare di queste due valutazioni tutto sommato convergenti illustri valutazioni sicuramente si può dire che il ritorno in un certo senso di quel senso di competizione come scrive Orsina Orsina oggi possa avere dei defetti positivi in realtà anche a destra anche perché noi adesso ci concentriamo molto sul voto regionale l'appuntamento principale sarà quello delle elezioni europee alle elezioni europee ricordiamoci non ci sono coalizioni non ci sono campi larghi non ci sono voti disgiunti insomma è un voto molto più lineare da un certo punto di vista in cui si vota il partito tra l'altro con il fattore preferenze quindi ci sarà anche questo elemento da considerare ad esempio nella valutazione di Lega e Forza Italia io ho l'impressione che peserà la capacità dei candidati sul territorio di portare voti a uno o all'altro partito per capirci e quindi alla fine io credo che l'appuntamento elettorale a cui tutti guardano che darà un'indicazione anche generale perché sono chiamati al voto tutti gli italiani sarà appunto quello delle elezioni europee il bipolarismo da un certo punto di vista non se n'è mai andato dall'altro non si è mai pienamente realizzato certamente ecco quello che si diceva nel 2018 subito dopo il voto quando si diceva il nuovo bipolarismo sono Lega e 5 Stelle per esempio ecco quel tipo di valutazione lì ha lasciato il tempo che trova ad un certo punto di vista perché nel frattempo in soli sei anni scarsi sono successe mille cose mille riarticolazioni insomma questo ci deve forse anche suggerire come invito generale di non trarre indicazioni definitive perentorie su un risultato elettorale perché poi basta un attimo e la politica sa riarticolarsi e riorganizzarsi magari in modi inattesi allora il bipolarismo in Italia è un miraggio proteiforme perché ha cambiato qui abbiamo avuto nel volgere di 20 anni leader che sembravano invincibili che sono crollati nella polvere subito dopo te ne posso citare tanti ma sono evidenti i nomi che mi vengono in mente giusto quindi un miraggio proteiforme allora è vero che c'è un legame forte tra liderizzazione e bipolarismo cioè tra la concentrarsi intorno al leader del capitale politico e il bipolarismo dico una cosa è vero che il centro-destra ha molte divisioni al suo interno è anche vero che è una coalizione che fa meno fatica a trovare poi un leader di fatto dietro al quale andare due in 25 anni due in 25 anni Berlusconi o Rameloni Berlusconi Salvini 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 però non è mai stato premio solo per questo dico due certo è così Lorenzo Castellani attenzione ai Lorenzi sì nel senso secondo me questa cosa va messa un po' in prospettiva storica cioè noi da 40 anni cerchiamo di riformare la Costituzione ogni volta senza successo perché fondamentalmente perché il Paese ha subito un trauma enorme tra il 1992 quando il sistema dei partiti che erano le istituzioni predominanti su cui si basava il proporzionale è completamente collassato ora di fronte a questo noi siamo andati per via di mezzo quindi avendo dei bipolarismi imperfetti con le coalizioni che si formano prima abbiamo fatto le riforme con le leggi elettorali appunto peraltro scegliendo modelli che non esistono da nessun'altra parte va bene nel senso legate alle nostre specificità ma di fatto non è che abbiano funzionato in maniera particolare tanto che governi tecnici grandi coalizioni che poi si spezzano abbiamo visto sostanzialmente di tutto quindi a mio avviso sono due strade che il Paese può prendere o prendi la strada proporzionale sperando che si ricreino dei partiti che tra di loro una volta arrivati in Parlamento si mettano d'accordo cosa che però è difficile perché non hai più i partiti l'altra strada è una riforma della Costituzione in senso maggioritario che può essere appunto l'uninominale a doppio turno l'uninominale a turno secco in Italia la vedo difficile che possa funzionare l'uninominale a doppio turno è un'ipotesi con una tentativa di stabilizzare l'esecutivo che era però appunto anche un po' l'idea di Renzi che è l'idea oggi di Meloni il problema è portare a casa queste riforme perché una parte inevitabile della classe politica e anche dell'elettorato è tutto sommato refrattario a qualsiasi riforma della Costituzione possiamo non essere d'accordo ma è così c'è un conservatorismo costituzionale soprattutto a sinistra che è insuperabile ma ci sono in Italia delle regi elettorali negli antilocali per dire che hanno funzionato esatto infatti noi viviamo questa contraddizione tu hai i sindaci che funzionano le elezioni regionali tutto sommato che funzionano e poi hai un centro che è una politica nazionale disperso sì questo anche per il fatto che l'Italia è un paese molto complesso e composito e quindi è difficile verticalizzare il potere al centro però è un'ipotesi detto questo bisogna capire se questa cosa politicamente può essere fatta perché diceva Buccini prima una costituente queste opzioni qua non sono sul piatto per il semplice fatto che non c'è accordo quasi dentro l'attuale maggioranza sul premierato figurati con la sinistra che non vuole cambiare mai la costituzione quindi bisogna secondo me ragionare freddamente diciamo sì in termini di scienza politica su quali sono le condizioni date e la domanda secondo me l'attuale riforma del premierato vede la luce anche solo in Parlamento e se vede la luce anche solo in Parlamento poi c'è la possibilità che il referendum possa andare in porta ma la maggioranza c'è per portare teoricamente la maggioranza c'è però sono d'accordo col dubbio che giustamente esprime il professore perché la maggioranza c'è ma secondo me sul premierato è fragilissima tal che il premierato è diventato un pasticcio immenso per rapidità di trasmissione non sto a parlare del secondo premier perché se no diventiamo pazzi ma insomma tecnicalità sono diventate un pasticcio di tecnicalità peraltro la coesistenza davvero tra un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento e un Presidente del Consiglio eletto dai cittadini direttamente è veramente problematica allora per esempio vi ricordo solo sulla vicenda dei manganelli quanto dobbiamo ringraziare il Dio di avere un Presidente della Repubblica autorevole e terzo allora vogliamo decidere che facciamo il presidenzionismo perfetto si elegge il Presidente della Repubblica o si fa il semipresidenzionismo alla francese senza pasticci con dei contrapesi negli Stati Uniti adesso Dio ci aiuti anche loro hanno i loro problemi ma prima dell'avvento della follia di Trump funzionava perché avevano dei contrapesi veri che in questa formula non ci sarebbero fatevi spezzare una lancia per il bipolarismo perché il bipolarismo è quella che non funziona il bipolarismo signori ha funzionato finché c'era una legge che lo consentiva il mattarellum che era una legge chiaramente maggioritaria con un piccolo pezzetto di recupero proporzionale e infatti quelle maggioranze tenevano hanno avuto due leader fino dal 94 al 2006 i due leader erano Prodi e Berlusconi salvo il piccolo colpo di Stato di D'Alema ma quello lasciamolo perdere insomma erano fondamentalmente due leader Prodi e Berlusconi che hanno vinto e si sono contesi quando è morto il bipolarismo quando è stata alterata con il famoso Porcellum di Calderoli cioè il signore che sta scrivendo l'autonomia differenziata per questo povero paese quando nel 2006 è stato alterato per impedire al centro-sinistra di vincere bene e da allora questo paese non ha più trovato pace quindi non è vero che non si può fare il bipolarismo e non è vero che è necessario il premierato basta mettere il nome del signore della coalizione che sta per vincere o sta per perdere e che gli elettori possano conoscere prima con una legge elettorale che consenta alla coalizione di tenere quello che Berlusconi diceva votate il premier votate per cioè quello che Berlusconi aveva semplificato nella tua legge elettorale cioè farla passare da 65 35 a 65 35 sul lato maggioritario sono perfettamente è difficile un vista tecnico vi potrebbero invitare alla costituente questo è il tavolo è già la costituente no io insomma in questo clima costituente concordo in pieno con quello che però non può essere che in Italia si fanno gli esperimenti il vero problema è che ci sono alcune cose che dovrebbero essere lo ripeto pietre d'angolo condivise qui le pietre d'angolo condivise non ci sono abbiamo provato dieci volte a farle con le bicamerali eccetera alla fine non troviamo l'accordo e quindi facciamo le leggi elettorali sartoriali ma perché è venuto fuori diciamo neanche troppo tra le righe di quanto si è detto perché tutto questo si tiene in piedi se ci sono i partiti non si tiene in piedi se ci sono solo leader che durano quindi il disastro è successo 25 anni 30 anni fa ma certo perché essendo i leader sempre più velocemente consumabili consumabili quando stanno all'ACME tendono a cristallizzare la loro posizione l'ha fatto Renzi l'hanno fatto tutti hanno provato anzi a farlo tutti sempre dicendo malissimo poi dall'altro quindi finché a proposito di costituenti ogni singolo partito al proprio interno non si prende un bello ricostituente lui non si mette di nuovo a elaborare un'identità a costruire ed è una lunga semina credo che tra tutti quanti forse è l'ischline l'unica che sta provando a farla finché non si rimette in piedi una struttura identitaria nei singoli partiti e quindi non si rimettono in piedi i partiti questi mostri che abbiamo attaccato e che invece scopriamo ma insomma non era così difficile capirlo che fanno parte della struttura dell'architettura del paese e che senza ci condanniamo tutti a un liderismo pronta beva e diciamo con vita brevissima che porta a queste strutture e qui perché ripeto i leader quando i leader che sanno di essere deboli nel momento in cui si sentono forti cercano di cristallizzare la propria forza forzando la costituzione però è come dire cerco di stare in piedi tagliandomi i piedi è un po' un paradosso autolesionista che però finché si fanno male loro una cosa una cosa ci si potrebbe mettere d'accordo che qualunque legge elettorale si fa non va in vigore prima di cinque anni dal momento in cui è stata approvata e già questo ci libererebbe della visione corta perché non vai a ragionare sui sondaggi almeno questo non è complicatissimo ma ogni tanto vengono proposte queste cose perché i parlamenti alla fine discutono Lorenzo Castellani e anche Lorenzo Pregliasco mi possono aiutare sempre nell'ultimo anno di legislatura si lavora a una legge elettorale non ci si pensa il primo giorno della legislatura ma nell'ultimo anno valutando qual è la situazione contigente le riforme costituzionali tu devi fare per forza coinvolgendo l'opposizione a un pezzo di essa questo è il punto perché sennò ti esponi a chimiraggi interi perché il meccanismo dei padri costituenti aveva saggiamente devi brindare i tuoi sapendo che c'è un'alternativa se no domani Salvini si alza e dice non mi sta più bene finito era quello che Renzi ha fatto quello che Renzi ha fatto uno per volta siamo stati con la fine del patto di Nazareno con Berlusconi lì è saltato il gioco di Renzi e così Lorenzo Pregliasco troppo tardi alcune cose nelle nostre legislature sì e tra l'altro spesso anche in modo piuttosto goffo o comunque con risultati inattesi ricordo che nel 2017 si fece la riforma elettorale l'attuale Rosatellum con l'idea che quel sistema elettorale avrebbe consentito di fatto l'idea era questa una grande coalizione PD forza Italia che comunque avrebbe favorito quei due partiti ci siamo trovati con un governo 5 stelle lega nel 2006 fu fatto il Porcellum che effettivamente per alcuni aspetti sfavorì il centro-sinistra come diceva Buccini verissimo ma paradosso dei paradossi fu anche la legge che consentì a Prodi di governare pur avendo 20.000 voti in più a livello nazionale quindi spesso quando poi si fanno questi calcoli i risultati e gli elettori la loro così l'imprevedibilità degli elettori portano le conseguenze ben lontane da quelle che ci si aspettava quando vengono fatte le riforme elettorali allora grazie il dibattito finisce qui però vi do una notizia che è molto importante in Italia è totalmente trascurato questo dibattito la politica si occupa di altro ci occupiamo un po' troppo forse di Sardegna un po' troppo di Abruzzo la minaccia di guerra potrebbe non essere imminente ma non è impossibile i rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati ma dovrebbero essere preparati e tutto ciò inizia con l'urgente necessità di ricostruire e rifornire e modernizzare le forze armate degli stati membri è un dibattito in corso sono parole di Ursula von der Leyen oggi in Italia sembriamo lontanissimi dalla percezione di quello che sta succedendo intorno a noi io mi fermo c'è coffee break domani parliamo di questa omnibus vi aspetto alle occhi grazie arrivederci